e tutelati. E uno di questi, ad esempio, adesso li vediamo, cioè non possiamo vederli tutti perché l'articolo è da 65 al 75 e 70, sono veramente, sono tanti, ho scelto, ho selezionato quelli che riguardano più che altro il mondo delle biblioteche. Il numero, l'articolo numero 68, la legge è sempre la solita che abbiamo visto l'altra volta, se è trattata del 1941. Questo riguarda le fotocopie, quindi come vedete c'è anche un comma che riguarda le fotocopie all'interno delle biblioteche. Il primo comma, un comma a volte lascia perplessi perché molti mi dicono ma come, ma davvero ce n'era bisogno? Adesso vi racconto, cioè dice che è libera la riproduzione di opere, di singole opere o brani di opere, per uso personale dei lettori fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio diffusione dell'opera nel pubblico. Ci riferiamo a che cosa? Allo studente che va presso un archivio storico, presso una biblioteca, si fa dare il faldone con dentro, che ne so, oppure con la copia della Treccani o della enciclopedia XY e si copia sul quaderno una voce di questa enciclopedia per fare la ricerca a scuola. Ecco, quell'attività lì è consentita come eccezione perché in teoria non si potrebbe nemmeno perché anche la trascrizione è un diritto, anche trascrivere su, anche il diritto di trascrizione è un diritto riservato e anche trascrivere su un quaderno, su qualcosa che crea comunque una copia, una riproduzione, sarebbe in teoria coperta dal diritto d'autore. Quindi in mancanza di questo comma 1 ci sarebbe il dubbio. Allora hanno messo, hanno precisato che invece si può fare, grazie, verrebbe da dire al legislatore per averci consentito questa cosa. Ci interessa forse di più il comma 2, come vi ho detto, il comma 3, perché questi parlano della fotocopia, che è un'attività che in effetti impatta di più sul diritto d'autore, no? Quanti di noi hanno fatto l'università e conoscevano che c'erano alcune copisterie che vendevano i libri già fotocopiati? Tu entravi e dicevi, ah buongiorno, mi dia, vorrei il manuale del, che ne so, di diritto privato e quello dell'autore X. Ma lo vuole originale o lo vuole fotocopiato, no? E la differenza qual'era? Che originale costava 80 euro, la fotocopia costava 40, 45 magari, era più brutta, era rilegata male. E sappiamo tutti che esiste questo sottobusco, ovviamente non legale di attività che forniscono i libri. In teoria c'è una regolamentazione, che poi venga rispettata o meno, è tutto un altro paio di maniche. Dice il comma 2 che è libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. Quindi questa non è tanto la fotocopia che si fa all'utente, no? Immagino che in biblioteca voi abbiate la fotocopiatrice, quantomeno le biblioteche più grandi ce l'hanno, una o due o qualche fotocopiatrice, con la tesserina a disposizione del pubblico per cui l'utente si fa lui la fotocopia. Ecco, non è questo caso qua, perché in questo caso è il 3, il comma 3. Il caso 2 riguarda la fotocopia che fate voi come ufficio della biblioteca per i vostri servizi interni, potremmo dire. Deve essere, vedete, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. No, cioè deve evitare, sostanzialmente detto in parole più semplici, deve evitare che voi, che con questa attività voi non compriate più i libri perché tanto vi fate sempre le fotocopie, sostanzialmente, riuscite ad andare avanti a fotocopie. Ok, quindi non ci deve essere un vantaggio commerciale diretto o indiretto, però a uso interno si può fare, secondo appunto questo comma. Il comma 3 invece, come vi ho detto, riguarda proprio la fotocopia, quella del privato cittadino, ed è quella che ha il famoso limite del 15% che tutti conoscerete. Dice, vedete, fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali perché il legislatore a quelli li ha sempre tenuti separati, ovvero spartiti e partiture hanno, come dire, un'esigenza ancora, una tutela maggiore perché capite che la fotocopia di uno spartito, se ho un'orchestra di 50 elementi, io compro un'unica copia e faccio la fotocopia per 50, anche se nel limite del 15% è molto alto il rischio che nessuno compri davvero lo spartito, perché uno si fa fotocopiare il 15%, cioè la parte che interessa al singolo strumento, e se la cava. E quindi per tutelare l'attività di quei pochi editori che in Italia, insomma, hanno non poco peso, perché noi abbiamo ancora tutto il nostro 800, i diritti sulla musica classica dell'800 che generano una marea di diritti, non faccio i nomi di quali sono gli editori che hanno in mano questo patrimonio, è un editore in realtà, però, insomma, per tutelare questa attività è stata tenuta fuori la parte sugli spartiti. In compenso, vedete che dice da qua in poi che è consentita nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Deve essere, vedete, quindi nel limite del 15% togliendo le pagine di pubblicità. Deve essere una riproduzione per uso personale e, perché appunto abbiamo detto che se è fatta dalla biblioteca per i propri servizi ricade nel comma 2, e deve essere mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Ormai parliamo quasi sempre di fotocopia, la xerocopia, se ricordate, è il famoso, quello che veniva chiamato ciclostile, se ricordo bene, è un altro tipo di tecnologia che ora non credo si usi più. La fotocopia è la fotocopiatrice con il fascio di luce che passa e fa una foto, di fatto. Equivale anche uno scanner, nel senso lo scanner che poi mi produce una copia cartacea. Attenzione che non vale se lo scanner poi salva il file e io mi creo un bel archivio digitale che metto a disposizione su una banca dati, perché quella non è fotocopia, quella è digitalizzazione. È un'attività diversa dalla fotocopia. Vale anche la fotocopia fatta, secondo me, secondo anche altri giuristi, fatta con il cellulare, con la propria macchina fotografica. Cioè io invece di farmi la fotocopia sulla fotocopiatrice, attesco la tesserina, faccio una foto e poi me la stampo. Però deve essere appunto destinata alla stampa di una singola copia. Anche lì, se uno si comincia a creare l'archivio digitale di articoli scientifici facendogli le foto, sta in realtà facendo un'attività diversa dalla fotocopia. E appunto e soprattutto se questo archivio digitale poi viene messo a disposizione di altri. Classico problema. Perché poi c'è queste due paroline magiche, sistema analogo, che fanno, come dire, nascere il thriller, anche qua, di cosa si intenda bene per sistema analogo, no? Io ragiono da giurista, vado un po' per interpretazione, mi fermo sulla singola parola, la fotocopia è una copia fatta con un sistema fotografico. Ecco perché dico che anche la fotografia fatta con una macchina fotografica, con un cellulare, se è destinata poi a fare una singola copia a uso personale del lettore, ricade nel concetto di fotocopia. Alcuni mi chiedono, il famoso document delivery, tipico problema delle biblioteche universitarie, non so se è un problema che tocca anche voi, però document delivery è, no, una, cioè la classica fotocopia però fatta a distanza, cioè una biblioteca, non so, la biblioteca dell'università di Genova ha un articolo scientifico molto raro che altre biblioteche non hanno, un ricercatore che lavora a Trieste avrebbe come scelta o prendersi un treno o l'automobile a farsi sette ore di viaggio per andare a farsi lui una fotocopia, oppure chiedere che cortesemente, chiedere attraverso la biblioteca della sua università, cioè l'università di Trieste, chieda all'università attraverso dei software e delle piattaforme di interscambio tra biblioteche, faccia lei la scansione e la invii. Questo si chiama document delivery e creano un pochi problemi perché gli editori hanno una paura folla di questo sistema per cui ti attemono che poi di fatto ogni biblioteca, che le biblioteche mettendosi in rete comprino ancora meno copie di quelle che normalmente comprano perché tanto basta che ce ne sia una in una delle varie biblioteche italiane che sono in rete tra loro e per cui attraverso document delivery nessuno comprerebbe, le altre biblioteche non comprerebbero più quella copia perché tanto sanno che ce l'ha qualcun altro. Però appunto il sistema analogo, il document delivery fatto in questo modo, cioè dove non sono gli utenti a prelevare da una banca dati perché lì ci sono degli abbonamenti di riviste scientifiche che è diverso, un altro tipo di attività che ricade in altri diritti, ma è proprio la scansione fatta su richiesta di un altro ufficio bibliotecario che poi viene data all'utente singolo in forma cartacea. Cioè l'altro, la biblioteca di Trieste non gli dà il file ma stampa con la sua stampante l'articolo e glielo dà con un'annotazione con scritto copia singola uso dell'utente. Questa roba qua effettivamente è a tutti gli effetti un sistema analogo a quello della fotocopia, cioè è come se ci fosse una fotocopiatrice in rete dall'altra parte del paese, a 500 chilometri di distanza. È un argomento molto molto interessante, si possono fare varie riflessioni, però adesso direi che non possiamo andare molto oltre su questo tema. Direi che abbiamo messo a fuoco un po' la questione delle fotocopie. che passo?